Ciao e benvenuto nel mio canale. Io sono Chiara e sono un'insegnante di lingua e cultura italiana per stranieri. In questo video ti racconto la storia dei blue jeans. Normalmente è famosa la storia di Levi Strauss, un imprenditore tessile tedesco di famiglia ebrea. Nel 1853 Levi Strauss aveva lasciato la Germania per imbarcarsi verso gli Stati Uniti d'America. In realtà già durante il viaggio sulla nave da buon venditore qual era fa già buoni affari. Infatti vende quasi tutta la sua merce tra i passeggeri della nave e quando arriva in America ha solo pochi rubidi tessuti che servivano per i tendoni dei carri. Così ha l'idea di tagliarli per farne dei pantaloni resistenti e questa fu la sua fortuna. In questo periodo la California era in piena corsa all'oro, quindi Strauss era convinto che la California sarebbe stata sicuramente un grande affare per l'azienda di famiglia. Il suo obiettivo era fabbricare indumenti robusti per i minatori cercatori d'oro. Così si stabilisce definitivamente a San Francisco e mette su una filiale dell'azienda di famiglia, la Levi Strauss & Company, che vende attrezzi per i minatori, tra cui soprattutto grembiuli e tute da lavoro. Oltre alla vendita nel tempo libero produce i suoi pantaloni, che nel frattempo erano diventati molto famosi fra i minatori per la loro resistenza. Ma naturalmente erano molto lontani dai jeans che conosciamo oggi. Infatti la trasformazione verso i moderni jeans avviene per gradi. Il primo passo è quello di scegliere un tessuto via via più comodo e morbido, diverso da quello usato inizialmente per i tendoni dei carri. Infatti i minatori cominciano a lamentarsi perché il tessuto di questa tela per carri era troppo grezza e ruvida sulla pelle. Allora Strauss decide di importare un nuovo tessuto dall'Europa. Questa scelta cade sulla città di Nîmes, in Francia, che già dal 1500 produceva un tessuto chiamato Serge de Nîmes, cioè Serge de Nîmes, un nome che, americanizzato, diventa semplicemente denim, dal momento che un prodotto veniva sempre identificato con il suo luogo di provenienza. Il denim era un tessuto dal caratteristico aspetto blu, per la tinta blu indaco che veniva usata per colorarlo, una tinta ricavata proprio dalla pianta asiatica dell'indaco che veniva coltivata in Europa. Il denim era molto resistente, di cotone, ed era una derivazione del fustano italiano, ma con una lavorazione diversa. I primi levis, che venivano chiamati waste overalls, prodotti nell'industria di Strauss, erano quindi destinati ai cercatori d'oro. Ben presto il tessuto comincia a essere usato anche dai cowboy nel far west, non solo per i pantaloni, ma anche per le giacche resistenti e durature. Il secondo passo verso il successo, invece, è dovuto a un sarto, Jacob Davis, che era un cliente di Levi Strauss. Infatti, nella sua sartoria nel Nevada, nel 1871, Davis aveva trovato un modo per risolvere un grande problema. I suoi clienti, per lo più minatori, si riempivano le tasche di attrezzi e queste si strappavano, lasciando cadere tutto in terra. Davis aveva trovato il modo per fissare una volta per tutte le tasche ai pantaloni. Era riuscito a rinforzare le cuciture, applicando nei punti più delicati delle tasche dei piccoli pezzi di rame, chiamati rivetti. I pantaloni così rinforzati sono molto richiesti e Davis vuole sfruttare commercialmente la sua invenzione, ma non ha abbastanza soldi per brevettarla. Per questo, pensa di chiedere aiuto a chi gli fornisce i tessuti. Così, nel 1872, si rivolge a Levi Strauss. A fare fatto, Strauss e Davis diventano soci. Il 20 maggio 1873 arriva il brevetto a nome di entrambi. Nel 1886 arriva anche il marchio di fabbrica, l'etichetta in pelle che tutti conosciamo, sintesi della qualità del prodotto di casa Levi's. Due cavalli che tirano un paio di pantaloni senza riuscire a romperli. Nei decenni a seguire, il Blue Jeans si diffonde un po' ovunque, non più solo tra i lavoratori e i cowboy, ma anche tra gli attori cinematografici. Marlon Brando e James Dean furono tra i primi. Questa è l'affortunata storia americana. Ma ora facciamo un passo indietro, perché la storia dei Blue Jeans parte da molto prima. In realtà il Blue Jeans è nato in Italia nel XV secolo, più precisamente a Genova. Vediamo perché. Nel porto di Genova, i lavoratori, chiamati scaricatori di porto o in genovese camalli, caricavano e scaricavano le merci a mano e naturalmente ci si sporcava molto. I marinai genovesi avevano scoperto che nell'entroterra, in Piemonte e più precisamente nella città di Chieri, vicino a Torino, si produceva un tessuto blu chiamato fustagno. Era un tessuto non pregiato, ma molto resistente e robusto, facilmente lavabile. In origine era fatto in cotone e in lino, poi in seguito unicamente in cotone, diventando via via sempre più economico. Il tessuto era bianco e veniva colorato di blu grazie alla coltivazione di una pianta. In Italia era stata introdotta già da secoli una pianta di origine asiatica, chiamata Isatis Tinctoria o più comunemente Guado o Gualdo. Era una pianta dai fiori gialli da cui si ricavava una tinta blu. In Italia veniva coltivata proprio nella zona di Chieri ed era arrivata fino a qui grazie ai catari. Nel resto d'Europa i tessuti si tingevano con un'altra pianta originaria dell'India, chiamata Indigofera tinctoria, da cui si ricavava invece la tinta indaco. Il Piemonte però non aveva un porto per esportare il fustagno blu e quindi comincia a vendere il tessuto ai genovesi e il commercio del fustagno passa totalmente in mano al porto di Genova, che ne cura l'esportazione in Europa, soprattutto in Inghilterra, in Olanda, ma anche negli Stati Uniti. I marinai genovesi cominciano ad utilizzare il tessuto per il loro lavoro al porto, soprattutto lo usano per confezionare i sacchi delle vele per le navi e anche per coprire le merci nel porto. Questo fustagno blu comincia a essere chiamato tela Genova. Successivamente i marinai genovesi cominciano a utilizzarlo anche come vero e proprio indumento da lavoro, prima come tuta resistente e poi come robusto pantalone. L'esportazione della tela Genova, soprattutto in Inghilterra, ha molto successo tra i mercanti inglesi, perché costava meno rispetto alle altre stoffe. All'epoca si usava a dare ai prodotti il nome del luogo da cui provenivano. Quindi il tessuto che viene da Genova comincia a essere chiamato blu di Genova, in francese bleu de gène e in inglese blue jeans. Ufficialmente il nome blue jeans si diffonde a partire dal 1567 e si impone in tutta Europa, grazie anche ai suoi costi contenuti. sulle balle di tessuto nel porto di Londra c'era la scritta blue jeans, cioè blu di Genova. E arriviamo al 1800, quando il blu di Genova comincia ad essere usato anche tra i militari. Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, era stato lui stesso un marinaio del porto di Genova durante la spedizione dei mille nel 1860 e indossava i blue jeans. Questi, proprio gli originali di Garibaldi, sono ancora oggi conservati nel Museo Centrale del Risorgimento a Roma e sono i jeans più antichi esistenti. Quali sono gli antenati dei blue jeans? Gli antenati dei blue jeans o i suoi parenti più stretti sono i teli della passione, oggi conservati al Museo Diocesano di Genova. Si tratta di 14 tele realizzate in tela Genova da alcuni pittori dell'epoca, tra cui il più importante era Teramo Piaggio, che prende spunto dalle incisioni della passione di Albrecht Dürer. Le tele sono realizzate in fibra di lino tinta con indaco e dipinte a biacca, una tempera bianca a base di piombo. Le tele della passione raffigurano le scene della passione di Cristo. Erano gli apparati effimeri, che oggi chiamiamo sepolcri, utilizzati per la settimana santa. Venivano montati all'interno dell'abbazia di San Nicolò del Boschetto, a formare una piccola cappella per accogliere i fedeli. Il più antico è datato 1538, mentre gli ultimi risalgono alla fine del 1600. Inoltre, altri parenti stretti dei blue jeans sono le statuine del presepe genovese del 1700, conservate nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. I pastori del presepe indossano proprio pantaloni o giacche in fustanio genovese, o appunto tela Genova. Sono statuine realizzate in legno e rivestite in tessuto nella bottega dello scultore genovese Anton Maria Maragliano, da artisti come Pasquale Navone e Giovanni Battista Garaventa. A Genova, dal 3 ottobre 2020 al 17 marzo 2021, presso il Museo di Arte Contemporanea di Villacroce, si è tenuta la mostra Autunno Blu, una mostra dedicata proprio al colore blu. Una mostra plurima, formata da 5 diverse mostre, una di queste chiamata Arte Jeans, dedicata al jeans. 24 artisti italiani contemporanei hanno creato opere dipinte realizzate con tela jeans e le hanno donate al Comune di Genova. Inoltre, il Comune di Genova ha seguito un progetto importante, un evento internazionale chiamato Genova Jeans, che si è svolto dal 2 al 6 settembre 2021. Il percorso di Genova Jeans racconta i momenti salienti della storia dei blu jeans, dalla sua nascita all'evoluzione, mettendo in risalto i momenti storici e culturali. A Genova, a ricordo della nascita dei jeans, nel novembre 2004 è stato disegnato e realizzato da studenti del liceo artistico e di un istituto professionale un pantalone blu di Genova di dimensioni da Guinness dei Primati, alto 18 metri, confezionato con 600 paia di vecchi jeans e issato su un'alta gru del porto antico di Genova. Ancora una volta grazie all'inventiva italiana per questa invenzione. Fortunatamente un'inventiva che non è andata persa, perché almeno nel nome rimane la traccia ben visibile dell'origine genovese di questi pantaloni, il blu jeans, il blu di Genova. Se il video ti è piaciuto metti un like, inoltre ti ricordo di iscriverti al mio canale dove puoi trovare tanti video interessanti e attiva la campanella delle notifiche per sapere quando pubblicherò un nuovo video. Se vuoi parlare e studiare l'italiano online con me, visita il mio sito italianoconchiara.it e contattami con un'email per prenotare la tua prima lezione. A presto!